Salve interisti, bentornati ad un'altra novità dell'Inter. Chiedo a tutti voi che non siete ancora iscritti al nostro canale di iscriversi subito e di attivare la campanella per non perdervi nessuna notizia sul miglior club italiano. L'Inter torna con entusiasmo e punta su Folarim Balogun. Con il caso Scamacca, che ha presentato alcune complicazioni dovute all'Atalanta, la dirigenza nerazzurra ha agito con determinazione e intensificato i contatti con l'Arsenal, prendendo di mira il giovane e talentuoso attaccante americano. Le ultime informazioni dicono che la trattativa è in corso e si preannuncia entusiasmante. Secondo il noto specialista di mercato, Alfredo Pedulla, la possibilità di portare a compimento Folarim Balogun per un importo di 35 milioni, compresse tutte le condizioni, è molto concreta. C'è anche la prospettiva che l'affare possa essere chiuso per una cifra leggermente inferiore, che sarebbe una vera vittoria per l'Inter. Questo tanto atteso trasferimento mira a rafforzare ulteriormente la rosa, dando al nostro allenatore, Simone Inzaghi, un grande attaccante per rafforzare la prima linea. Lascia il tuo mi piace sul video per essere sempre aggiornato su tutto ciò che c'è da queste parti. I colloqui tra le parti coinvolte sono in un momento decisivo e la trattativa mostra un punto molto promettente per la conclusione dell'accordo. Folarim Balogun, noto per le sue abilità uniche, è visto come una parte fondamentale del futuro del club e, se tutto dovesse realizzarsi, potrebbe essere un'aggiunta preziosa a una squadra già talentuosa. Questo attacco dell'Inter dimostra la fiducia e la determinazione del Consiglio nel cercare forti rinforzi, anche a fronte di altre opzioni disponibili sul mercato. La posizione ferma e decisa del club rivela la sua ambizione di rimanere protagonista sulla scena calcistica europea, competendo ad armi pari con le grandi potenze di questo sport. Questo è solo uno dei tanti contenuti esclusivi che portiamo qui sul nostro canale dedicato all'Inter. Non perdere l'occasione di seguire tutto da vicino, partecipare ai nostri sondaggi e rimanere aggiornato su tutte le novità sulla nostra squadra del cuore. Pensi che Folarim Balogun sia il giocatore ideale per l'Inter? Commenta qui sotto!